Ciao a tutti e benvenuti su questo canale, io sono Claudia e oggi sono qui con voi per una nuova puntata della rubrica La Quarta Parete. In questa rubrica prendiamo film e serie tv ispirati a fatti realmente accaduti e li mettiamo a compronto con le storie vere. E oggi parleremo di lui, dell'amico di penna che nessuno mai vorrebbe avere, del serial killer che ancora oggi l'ha fatto franca e che ha mandato in tilt il mondo criminale americano. Sto parlando di lui, di Zodiac, il chico dello zodiaco e la sua storia ha affascinato talmente tante persone, tra cui anche il regista David Fincher che nel 2007 ha girato un film proprio dal titolo Zodiac. Il film è basato su due libri inchiesta scritti da Robert Gray Smith che ai tempi dei delitti di Zodiac era un vignettista del San Francisco Chronicle. Tra gli interpreti principali del film troviamo Jack Gyllenhaal che interpreta lo stesso Gray Smith, Robert Downey Jr. che interpreta il giornalista Paul Everi e Mark Ruffalo che invece interpreta l'investigatore David Tosky. Potrei anche dirvi che tutti e tre questi attori sono stati nell'universo cinematografico della Marvel ma non mi perderò in questo discorso e invece vi dirò che Zodiac per tantissimi anni, ancora fino ad oggi, è riuscito a farla franca. Nessuno mai è riuscito a dare un nome del colpevole e naturalmente la sua storia equivale a un vero e proprio rompicapo, quasi quanto le lettere che mandava alla stampa negli anni 60 e 70. Comunque, adesso penso di essere riuscita a introdurre tutto quello che c'era da introdurre, quindi direi basta chiacchiere e iniziamo! Da dove deriva però il nome Zodiac? In realtà è lo stesso serial killer che decide di denominarsi in questa maniera perché si firma così nelle lettere che invia alla stampa. E c'è da dire che in molti hanno pensato che questo nome deriva dalla marca Zodiac, la marca di orologi, tant'è che anche il simbolo con cui Zodiac si firma, cioè un cerchio con una croce al suo interno, è esattamente il simbolo di questa marca di orologi. C'è da concentrarsi in particolare sulle lettere che lui ha mandato alla stampa tra il 1969 e il 1974. Infatti questa è la particolarità di Zodiac, perché sappiamo che tutti i serial killer vanno a togliere la vita alle persone, questo lo fanno tutti. Ma lui aveva questa particolarità in più, e cioè che cercava di comunicare con la stampa e con gli investigatori, ma come lo faceva? Prendendoli in giro sostanzialmente. Vedremo anche che lui praticamente inizia a fare una gara tra lui e i poliziotti. Però andiamo con ordine. Il primo omicidio confermato e attribuito a Zodiac avviene il 20 dicembre 1968, e le vittime sono Betty Lou Jensen di 16 anni e David Farai di 17 anni. Nonostante questa sia la prima azione confermata e attribuita a Zodiac, Fincher nel suo film non parte da qua, e poi vedremo da dove inizierà il film. Comunque, Betty Lou e David quella sera di dicembre sono al loro primo appuntamento. Sono due semplici fidanzatini che come tutti i fidanzatini decidono di uscire, anche perché quello è il periodo di Natale, e infatti volevano andare ad una festa natalizia. Però poi alla fine cambiano idea, decidono di andare a trovare un amico e di mangiare qualcosa fuori. Finita la loro serata, diciamo così, verso le 11 di sera, si fermano con la loro auto in una piazzola di Lake Herman Road nella contea di Solano in California. Poco dopo, qualche minuto dopo che loro sono fermi lì, un'auto si avvicina a loro, e c'è un testimone infatti che conferma la presenza delle due auto nella piazzola, perché stava passando di là, e ad un certo punto sente un rumore molto forte questo testimone, ma non è sicuro che fosse proprio uno sparo. Sembrava uno sparo, non riesce ad identificarlo pienamente perché aveva l'autoradio accesa. In realtà quel rumore forte è proprio uno sparo, infatti cosa succede? Succede che la persona che era nell'auto arrivata qualche minuto dopo scende dall'auto e si dirige verso l'auto dei ragazzi. A questo punto punta loro una pistola contro, e David muore con un colpo in fronte, mentre Betty Lou muore dopo cinque colpi. Sulla scena c'è anche un'altra testimone, che è Stella Borges, e abitava più o meno nelle vicinanze. Cosa dice Stella? Dice che già da un po' vedeva a girarsi nella zona una macchina che era una Chevrolet, ed era molto simile a quella presente sulla scena, che diciamo era stata vista, anzi sulla scena del crimine. Le indagini sin da subito non portano a nulla, non sono state trovate prove, e in più sulla macchina non ci sono nemmeno indizi che possono essere impronte, macchie di sangue, qualsiasi altra cosa, tant'è che all'inizio si pensa ad un furto finito male. La situazione è tranquilla per circa sette mesi, poi arriviamo al 4 luglio del 1969. Ora, sapete che il 4 luglio in America ha dei festeggiamenti praticamente pari a quelli che noi facciamo a Capodanno, perché è il giorno in cui si festeggia l'indipendenza americana. Il film di David Fincher si apre proprio a quella sera del 4 luglio del 1969, quando Darlene Ferrin, di 22 anni, e Michael Maggiotti, di 19 anni, sono in macchina nella loro auto e si fermano in una piazzola del Blue Rock Springs Golf Course, nella periferia di Vallejo, sempre in California. Qualche minuto prima della mezzanotte si ferma dietro di loro un'auto e i ragazzi sono un attimino disorientati, però non si preoccupano perché dicono che magari poteva essere qualcuno che aveva sbagliato e infatti pochi secondi dopo l'auto riparte, però passa veramente poco tempo e l'auto ritorna. Si ferma nuovamente dietro di loro e siccome ormai avrete capito che l'autista presente in questa macchina non era di certo animato da buone intenzioni, cosa fa? In realtà l'opinione degli investigatori è che si ferma dietro l'auto proprio per evitare che i due giovani potessero scappare, quindi che potessero scappare in retromarcia e quindi lui non poteva fare quello che voleva fare. E che cosa voleva fare? Questa persona scende dall'auto con un'arma in mano, però ha anche una torcia con cui abbaglia i due ragazzi, quindi i due ragazzi per quasi più di qualche secondo non riescono a capire cosa stia succedendo. E quello che sta succedendo di certo non è una bella cosa, infatti Darlene con una pistola viene colpita 5 volte e muore durante il tragitto in ospedale, mentre Michael è colpito 4 volte al volto e al torace, però riesce a sopravvivere e fornisce agli investigatori il primo identikit di quello che poi verrà chiamato Zodiac. L'identikit corrisponde a quello di un uomo bianco, alto circa 1,75 m sulla trentina, capelli scuri e occhiali. Nel film viene detto che Majeux poi, una volta uscito dall'ospedale, sparirà un pochino dalle scene, non vorrà parlare più con nessuno, evidentemente forse quell'esperienza era stata particolarmente traumatica, però poi lo rivedremo. Un altro dettaglio che viene aggiunto nel film e anche nel libro di Grace Smith è che probabilmente Darlene in realtà conosceva il suo aggressore, perché Darlene lavorava in una tavola calda e a quanto pare questa persona aveva sostanzialmente una cotta per lei e Darlene pare che ne avrebbe approfittato perché sapeva che lui era il kid di Betty Lou e David e quindi lo stava ricattando. In realtà questa versione dei fatti non è mai stata ufficialmente confermata, quindi tecnicamente Darlene in realtà non conosceva il suo guzzino. Una cosa importante anche del film è che bisogna sottolineare che tutti i costumi sono tantissimo fedeli a quelli originali e questo perché il costumista di Zodiac del film ha avuto accesso alle scene del crimine. Qui mi devo autocorreggere perché il costumista del film Zodiac che si chiama Casey Storm ovviamente ha lavorato sul film nel 2007, magari anche nel 2006, ma comunque le scene del crimine del 1969 al 2007 ovviamente non erano più accessibili anche perché ovviamente erano state tolte, sono state spostate in qualche modo e quindi non ha avuto accesso ovviamente alle scene del crimine ma gli sono state mandate delle foto dalle scene del crimine. Comunque qualche ora dopo, sempre quel 4 luglio, arriva una telefonata al dipartimento di polizia di Vallejo e dall'altro capo del telefono c'è un uomo che vuole rimanere nell'anonimato e che però rivendica tanto la scena del crimine che è appena avvenuta, quindi quella di Darlene e Michael e rivendica anche quella di dicembre, quindi quella dove hanno perso la vita Betty Lou e David. La polizia immediatamente cerca di capire da dove proviene la telefonata e scopre che proveniva da una cabina telefonica che era praticamente nelle vicinanze del dipartimento. A questo punto entriamo veramente nel clou della vicenda di Zodiac perché è il primo agosto del 1969 quando viene inviata una lettera a tre giornali di San Francisco il Vallejo Times Herald, il San Francisco Chronicle e il San Francisco Examiner. Tutte le lettere contengono dei dettagli sugli omicidi che sanno soltanto gli investigatori e naturalmente le persone direttamente coinvolte o almeno quelle che sono rimaste vive, intendiamoci. La cosa ancora più interessante di queste lettere è che contenevano un crittogramma, cioè un testo cifrato dove ogni simbolo all'interno di questo messaggio corrispondeva ad una lettera. Comunque nelle lettere l'autore vuole che il suo messaggio venga pubblicato nella prima pagina dei giornali altrimenti la punizione per non aver obbedito ai suoi ordini, diciamo così, è quella che nel weekend avrebbe tolto la vita a una dozzina di persone. Quindi i messaggi vengono pubblicati sul giornale, però c'è il capo della polizia di Vallejo che chiede sostanzialmente all'autore di mandare loro altri dettagli in modo tale di avere la conferma definitiva che lui è Zodiac, che è effettivamente colui che ha compiuto quegli omicidi. E siccome Zodiac possiamo dire che è un serial killer, possiamo dire che è una persona spregevole, però ricordatevi che salutava sempre e ad ogni richiesta lui rispondeva. E infatti il 4 agosto arriva un'altra lettera proprio al San Francisco Exeminer, che esordisce nella maniera che poi sarà famosa perché è il modo in cui Zodiac aprirà sempre le sue lettere. E cioè, caro direttore, qui è Zodiac che parla di Cis Zodiac Speaking. Ora, immaginate nella San Francisco di fine anni 60 un avvenimento del genere, quanto può creare scalpore e curiosità. Immaginate c'è un killer che rivendica gli omicidi e che offre alla merce di tutta la città un messaggio cifrato disposto lì in modo tale che tutti potessero decifrarlo. E in un certo senso si prende anche beffa di chi legge questo messaggio perché lui pensa che nessuno riuscirà mai a decifrarlo. E invece non è così. L'8 agosto, infatti, due lettori del San Francisco Exeminer, che sono il professore di liceo Donald Jean e sua moglie Betty Arden, riescono a decifrare il messaggio anche perché sono appassionati di enigmistica. Cosa succede? Che questo messaggio non contiene il nome reale di Zodiac, come lui aveva detto nella lettera, ma contiene, a mio parere, un messaggio molto più inquietante. Zodiac, infatti, scrivere che uccide le persone lo diverte tantissimo, più di quanto lo possa divertire uccide gli animali, perché ricordate che l'uomo è l'animale più pericoloso. Pensate che questa non è nemmeno la parte più inquietante, perché, infatti, poi scrive anche il motivo per cui decide di fare questo hobby, perché si dedica a questo hobby, diciamo così. Infatti lui dice che andrà in paradiso Zodiac, lui è convinto di ciò, però tutte le vittime che sta ammietendo saranno sue schiavi in paradiso. Quindi lui non può rivelare il suo nome, perché altrimenti questa sua collezione di schiavi verrebbe interrotta, in paradiso rimarrebbe da solo. Come mai ci può venire in mente di interrompere questo progetto bellissimo di quest'uomo? Mi chiedo io, quando mai? Comunque, i due coniugi riescono a decifrare gran parte della lettera, però non riescono a decifrare l'ultimo rigo, diciamo così, che sarebbe sostanzialmente il rigo in cui, presumibilmente, Zodiac dice il suo nome. In realtà, appunto, non riescono a decifrarlo ed esce fuori una parola che è illegibile, quindi ve la metto qua, da qualche parte. Comunque, fino a qui c'è da dire che Fincher rimane molto, molto, molto coerente alla storia vera. Naturalmente inserisce delle cose, dei dettagli di narrazione, per rendere più godibile il film, ad esempio. E a questo punto inizia a partire, non un'amicizia, ma una collaborazione tra il vignettista del Chronicle, che vi ho nominato prima, Robert Gray Smith, e il giornalista Paul Everi. In realtà, questo rapporto pare che non ci sia mai stato, perché non viene menzionato nemmeno nei libri di Gray Smith, ed è lui quello che in prima persona, diciamo, ha vissuto quello che viene raccontato nel film. A questo punto finisce l'estate e ci troviamo il 27 settembre del 1969, quando due studenti universitari, che sono Brian Calvin Hartnell, di 20 anni, e Cecilia Ann Shepard, di 22 anni, si trovano sulle rive del lago Berriessa, a Napa. Accade un fatto molto strano. Brian e Cecilia sono belli, tranquilli, a godersi la frescura, diciamo, accanto al lago, quando vedono in lontananza un uomo, vestito con una tunica nera, incappucciato, e sulla tunica ha il simbolo di Zodiac in bianco, quindi il cerchio e la croce. Questo tizio, con la tunica nera, punta un'arma contro i due ragazzi. E dice loro che è appena evaso dalla prigione di Deer Lodge, quindi è alla ricerca di un'auto e di anche soldi. I ragazzi, naturalmente, per assecondarlo, e sostanzialmente anche per tenersi salvo alla vita, lo assecondano. Gli vogliono dare la macchina, gli vogliono dare i soldi. Tutto quanto. Però c'è questo signore, che poi è Zodiac, ovviamente, come avrete capito, dice che si devono legare, quindi tira fuori delle corde. Cecilia deve legare Brian, però cosa fa? Lo lega in maniera abbastanza tranquilla, cioè non lo lega strettissimo. E naturalmente Zodiac si rende conto di questa cosa e lo lega più forte. Comunque lo stesso Zodiac poi lega Cecilia, ma fino a qua i due ragazzi, seppur terrorizzati, non si preoccupano più di tanto perché dicono, ok, ci sta legando. Al massimo, prima o poi, qualcuno ci trova, ma almeno avremo salva la vita. E non è così. Infatti, Zodiac tira fuori un coltello. Non ne capisco il motivo, perché fino a quel momento stava avendo in mano una pistola. Comunque, inizia ad accoltellare i due ragazzi. Comunque, alla fine, Zodiac, con quello stesso coltello, suppongo, incide sullo sportello dell'auto un messaggio in cui praticamente rivendica, cioè, inserisce prima il suo simbolo, poi rivendica gli omicidori del dicembre del 68, quello del 4 luglio del 69 e quest'ultimo di settembre. Però, quest'ultimo, aggiunge by knife, cioè, dice che praticamente, a differenza degli altri, è stato fatto con un coltello. Deve precisarlo, giustamente. Giustamente. Allora, cosa succede a questo punto? Che i due ragazzi vengono ritrovati da un uomo e il figlio che erano, più o meno, nelle vicinanze, lì a pescare. Però, quando arrivano i primi agenti, Cecilia è ancora cosciente, riesce a fornire una descrizione dell'aggressore, però, purtroppo, cade in coma durante il trasporto in ospedale e muore due giorni dopo. Per quanto riguarda Brian, invece, riesce a sopravvivere. E' colui che poi, riferirà a tutte le dinamiche di questa cosa orribile, di ciò che è successo, riferirà tanto, ovviamente, alla polizia quanto poi alla stampa. Brian, infatti, parlerà molto con la stampa. Una particolarità di questa scena nel film che, come vi ho detto, è fedelissima alla storia reale è che, naturalmente, il lago Berriessa, il paesaggio del lago Berriessa dal 1969 al 2007, quando è stato girato il film, naturalmente, era diverso. e, infatti, mancavano alcuni alberi che, invece, in quel tempo c'erano. E cosa fa Fincher? Fa trasportare per via aerea degli alberi e cerca di posizionarli nel terreno là dove erano proprio posizionati nel 1969. E, diciamo che questa scena è anche molto fedele proprio perché lo stesso Brian, il sopravvissuto, è consulente di Fincher per quanto riguarda questa parentesi. Cosa succede a questo punto? Che Zodiac, ovviamente, deve rivendicare quello che ha appena fatto perché lui è orgoglioso. È riuscito ad apprendere altri schiavi e quindi deve informare il mondo, deve informare San Francisco. Cosa succede, quindi? Che poco dopo arriva una telefonata al Dipartimento di Polizia di Napa e chi ci sarà mai dall'altro capo del telefono? Ovviamente, c'è Zodiac che dice dove possono essere trovati i corpi dei ragazzi perché lui probabilmente li considerava già senza vita e naturalmente rivendica quello che è stato fatto. Quindi, gli investigatori si recano sul posto da dove proviene la telefonata e rilevano delle impronte digitali che però, una volta analizzate, non corrisponderanno a quelle di nessun sospetto. E per questo triste avvenimento, oggi, il lago Berriessa è anche conosciuto come Zodiac Island. Passa circa un mese e arriviamo all'11 ottobre del 1969. quel giorno un uomo prende un taxi guidato da Paul Stein e gli dice di dirigersi nel quartiere di Presidio Heights. Per una ragione apparentemente sconosciuta, il tassista in realtà si fermerà un isolato più avanti e secondo l'ipotesi degli investigatori è che colui che era nell'auto che poi è quello che sarà l'assassino di Paul Stein non vuole fermarsi nel posto in cui aveva chiesto al tassista perché evidentemente forse c'erano dei testimoni. Quindi, evidentemente, un isolato più avanti non c'erano persone, non c'erano esseri viventi che potessero vedere quello che stava per compiere. In realtà si sbaglia perché cosa succede? Allora, quando Paul Stein si ferma un isolato più avanti l'assassino lo uccide poi scende dall'auto ripulisce la scena del crimine e che fa ruba a Paul Stein il portafogli le chiavi del taxi e strappa anche dalla sua camicia della stoffa prende un lembo di camicia insomma. Tutta questa scena a dispetto di quello che probabilmente voleva fare Zodiac perché questo anche lui è Zodiac viene vista da tre ragazzini che praticamente vivevano di fronte alla scena del crimine in una casa che era di fronte alla scena del crimine e che fanno questi ragazzini naturalmente allertano immediatamente la polizia e dice loro che il misfatto si sta compiendo quindi se si sbrigano ad arrivare è capace che riescono ad acciuffare questa persona. I tre ragazzini danno alla polizia una descrizione generica dell'uomo dicendo che era un maschio bianco sui 25-30 anni nei capelli scuri e vestito di nero quindi a questo punto viene data la comunicazione alle pattuglie di polizia di cercare quest'uomo però per qualche strano motivo che ancora non si è capito la comunicazione arriva errata quindi la polizia deve cercare non un uomo bianco ma un uomo nero e questo sarà un errore che la polizia pagherà cara perché almeno anche in una stessa lettera a Zodiac dirà che quella sera stessa due poliziotti lo avevano incontrato in un parco lo avevano fermato però ovviamente non era sospettato minimamente comunque questo errore poi verrà rettificato però ormai sarà troppo tardi perché Zodiac l'ha fatta franca riferirà alla polizia che quindi sono stati sostanzialmente degli idioti che nemmeno sapevano comunicare e si perde l'occasione per catturarlo all'inizio questa l'ominio Paul Stein viene considerato come una rapina finita male e la polizia quindi indaga in questo senso almeno fino a tre giorni dopo quando il 14 ottobre arriva una lettera al San Francisco Chronicle dove appunto Zodiac come vi ho detto rivendica l'omicidio e lo fa allegando alla lettera un pezzo di camicia quel pezzo di camicia che aveva rubato a Paul Stein a questo punto del film Fincher introduce un altro personaggio che sarà importantissimo nel film e nella vita reale e cioè l'investigatore David Toschi interpretato appunto da Mark Raffalo e lo stesso Toschi sarà poi nominato capo investigatore del caso di Zodiac c'è da dire che anche Toschi fa praticamente da consulente nel film di Fincher quindi tenete conto che come ho già detto questo film è fedelissimo alla storia reale anche grazie alle persone che sono state realmente a vivere quelle situazioni e hanno fatto da consulenti al regista a questo punto arrivano due lettere ai giornali alla stampa allora una arriva l'8 novembre del 69 però questa è sostanzialmente un crittogramma e quindi non sappiamo cosa contenga e non lo sapremo ancora per moltissimo tempo mentre quella del 9 novembre è una lettera leggibile diciamo così e cosa dice dice che Zodiac è arrabbiatissimo perché la polizia dice un mucchio di bagianate dice cose non vere su di lui per questo è arrabbiato e da quel momento in poi non rivendicherà più i suoi omicidi uffa quindi da quel momento in poi qualsiasi cosa farà Zodiac e gli investigatori saranno talmente idioti secondo lui da ricondurli soltanto a semplici rapine o furti o incidenti perché in questa lettera Zodiac dice che la polizia non riuscirà mai ad acciuffarlo sostanzialmente per tre motivi il primo è che quando lui va in giro a caccia di anime è più o meno come nell'identikit però invece quando è nel suo tempo libero diciamo così ha un aspetto totalmente differente il secondo motivo è che la polizia non può avere in alcun modo le sue impronte digitali e per quale motivo perché a quanto pare Zodiac dice che copre i polpastrelli le sue mani con cemento per aeroplani e il terzo motivo è che tutte le sue armi non possono essere rintracciate perché le ha ordinate da altri stati per corrispondenza questa lettera già problematica di per sé si conclude in una maniera che manderà in allarme l'intera San Francisco infatti nella lettera Zodiac descrive una bomba che avrebbe costruito con le sue mani e che avrebbe usata per far saltare in aria una scuola bus e quindi minaccia direttamente anche dei bambini a questo punto Fincher nel film fa vedere come i vari dipartimenti di Vallejo Napa e San Francisco cercano di coordinarsi per mettere insieme tutte le prove trovate nelle scene del crimine e in più arrivano anche a comprendere che Zodiac adesso vuoi perché sta avendo tantissima notorietà vuoi perché inizia ad essere ossessionato da questi suoi schiavi cambia anche schema infatti finché prima si concentrava sostanzialmente in delle coppiette e quindi uccidiva un uomo e una donna adesso invece si era concentrato soltanto su un uomo con Paul Stein il tassista però adesso addirittura andava a minacciare un gruppo di bambini i bambini che potevano essere su uno scuolabus sempre in questo stesso mese di ottobre accade una cosa strana e cioè Zodiac chiama al dipartimento di Oakland e dice che vuole parlare con uno degli avvocati più importanti di quel periodo che era in realtà Lee Bailey però Lee Bailey non era disponibile alla richiesta che farà successivamente e quindi c'è un altro avvocato molto famoso e cioè Melvin Bellay e dice praticamente a questo avvocato che doveva apparire nel talk show mattutino di Jim Dunbar l'avvocato Bellay si presenta la mattina presto sul set del talk show e arriva una telefonata dove il presunto Zodiac dice di chiamarsi Sam dice che ha dei grandi mal di testa dice che vuole essere aiutato dice che ha paura di entrare nella camera a gas per colpa di questo suo mal di testa e propone un incontro all'avvocato a Bellay appuntamento a cui poi non si presenterà mai prima di tutto ascoltando la voce tutti coloro che avevano sentito la voce di Zodiac fino a quel momento quindi chi lavorava al dipartimento di polizia aveva risposto alla sua telefonata chi magari i sopravvissuti avevano sentito quello che aveva detto in questo caso penso che Brian possa essere l'unico che l'abbia sentito parlare dicono che quella voce non rispondeva alla voce reale di Zodiac e infatti cosa succede? succede che naturalmente la telefonata di questo Sam viene rintracciata dalla polizia e si scopre che poi l'uomo in realtà era un paziente affetto da malattia mentale che era al Napa State Hospital se quello che ha effettuato la telefonata al talk show non era Zodiac il reale Zodiac continua in qualche modo a cercare Bellai infatti telefona più volte a casa dell'avvocato quando però l'avvocato non era presente quindi non hanno mai parlato e nel dicembre del 69 invia una lettera a Bellai dove sostanzialmente gli chiede aiuto perché non riesce più a controllarsi e infatti questa lettera ha un tono molto più tranquillo vogliamo dire così un tono forse più disperato rispetto al tono saccente e quasi minaccioso delle altre lettere c'è da dire c'è da dire che dopo l'omicidio di Paul Stein Zodiac a quanto pare non commette più altri delitti o almeno non sono stati attribuiti a lui altri delitti nonostante poi Zodiac nelle sue lettere dirà che in realtà ne avrà fatti almeno altri 30 Zodiac comunque anche se non uccide nessuno ufficialmente continua a comunicare con la stampa e con la polizia proprio perché a lui stava piacendo questa notorietà e ci sono delle lettere che appunto arriveranno fino al 1974 in una lettera del 20 aprile 1970 Zodiac scrisse che il mio nome è e poi c'è uno spazio vuoto siccome a Zodiac ormai l'abbiamo capito piaceva proprio tanto scrivere e mandare in allarme la città di San Francisco cosa succede? Che il 26 giugno del 1970 invia un'altra lettera dove si dice ancora arrabbiato mannaggia perché le persone di San Francisco come richiesta nella sua precedente lettera non indossano una spilla col simbolo di Zodiac come si faceva in quel periodo magari con le spillette per la pace poi a questa lettera che fa allega una mappa della baia di San Francisco dove traccia nuovamente il suo simbolo però sulla mappa appare quasi come un mirino che ha al centro il Mount Diablo e attorno c'è un codice 0369 e quel burlone del nostro Zodiac che cosa scrive? scrive che usate insieme a questo codice la mappa vi dirà dove ho messo la bomba avete tempo fino a quest'autunno per ritrovarla la bomba naturalmente viene immediatamente cercata dalla polizia ma non verrà mai trovata e a questo punto mi chiedo se sia mai esistita nelle lettere successive che andranno dal 70 al 74 una persona che prende direttamente che Zodiac prende direttamente di mira è il giornalista Paul Everi come vi ho detto infatti lui per il Chronicle si occupa proprio del caso di Zodiac riporta le sue lettere fa supposizioni scrive cose riguardo le scene del crimine quindi in qualche modo è sotto il mirino di Zodiac tanto che lo stesso Everi non è che si trattiene dal non fare complimenti all'assassino non lo definisce proprio in maniera encomiabile ecco e questo a quanto pare Zodiac non lo accetta tanto che poco prima di Halloween invia ad Everi una cartolina dove sostanzialmente lo minaccia ora nel film Fincher inserisce nella cartolina che arriva ad Everi un lembo della camicia di Paul Stein in realtà nella vita reale questo non è successo si arriva la cartolina ad Everi però non c'è nessuna camicia di Paul Stein al suo interno comunque sempre a Paul Everi Zodiac invia una lettera che poi darà una svolta definitiva al caso infatti Zodiac rivendica la paternità di un omicidio venuto a Riverside nel 1966 anni prima quindi se prima di quella lettera la polizia aveva sostanzialmente brancolato nel buio adesso aveva una pista da seguire perché cosa succede a Riverside nel 1966 una studentessa che frequentava il college di Riverside viene uccisa brutalmente nel campus e già all'epoca non fu mai trovato il colpevole quindi tornando al 1971 quando si ha questa questa pista finalmente spunta il nome del primo e poi più importante sospettato di essere Zodiac che è quello di Arthur Lee Allen nato il 18 dicembre del 1933 e sua sorella Karen sorello sorellastra non ho capito bene dice che sin da bambino aveva come hobby quello di uccidere gli insetti e di torturare gli animali maledetto comunque che succede che Allen nel film interpretato da John Carroll Lynch ha un passato di insegnante delle elementari però ad un certo punto viene licenziato perché è accusato di aver fatto proprio cose non proprio legali con i bambini capite a me e cosa succede che nel 1971 è un meccanico che lavora a Ballero ora nonostante fisicamente non somigliasse all'identikit fatto di Zodiac c'è il fatto che il suo nome inizia ad essere inserito nella lista dei sospettati e ciò accade quando un amico sempre nel 1971 un amico di Allen sempre nel 1971 manifesta diciamo una preoccupazione manifesta un disagio nei confronti di Allen perché dice che Allen gli avrebbe detto che mi piacerebbe cucinare le coppie a caso sfidare poi la polizia inviando lettere con dettagli sui crimini firmandomi con il simbolo del mio orologio e l'orologio qui si riferisce in queste parole è un orologio che Allen possedeva perché venne ritrovato durante una perquisizione nella sua casa e questo orologio come vi dicevo era di marca Zodiac e il simbolo di Zodiac della marca Zodiac è questo cerchio con la croce quindi la polizia durante le indagini avrebbe collocato Allen proprio a Riverside nel nel periodo in cui la studentessa non vi ho detto il nome Cherry Joe Bates viene perde la vita perché quella sera Allen era in zona e lui stesso lo conferma però dice che non è stato lui ad uccidere Harry comunque durante una delle tre perquisizioni che poi saranno fatte a casa di Arthur Lee Allen viene ritrovata anche una macchina da scrivere Royal con caratteri elite e alcune delle lettere di Zodiac erano state scritte proprio con quel carattere il giorno del crimine al lago Berryessa in più c'è un altro dettaglio e cioè che un vicino di Arthur Lee Allen vede nella sua macchina dei coltelli insanguinati e questi coltelli Allen li giustificherà dicendo che quel giorno aveva ucciso un pollo da cucinare perché voleva cucinarlo non solo un altro dettaglio che porrebbe Allen tra i sospettati è che sempre durante queste perquisizioni vengono trovate a casa sua schemi di ordini esplosivi da costruire con gli stessi materiali elencati nelle lettere di Zodiac e viene ritrovato anche un catalogo di esplosivi acquistabili per corrispondenza però queste comunque sono tutte prove circostanziali non sono prove che pongono effettivamente Allen sulle scene del crimine e quindi non viene incriminato anche perché c'è da dire che la prova principale se vogliamo così la prova regina sarebbe quella della calligrafia e la calligrafia di Allen non corrisponde perfettamente a quella di Zodiac l'ultima lettera attribuita a Zodiac è del 1974 e in questa lettera loda il film dell'esorcista per essere la miglior commedia satirica che avesse mai visto quindi la lettera si conclude con un simbolo diverso da quello di Zodiac che però non è stato decifrato sembra non avere alcun senso e si conclude anche con un punteggio infatti c'è scritto io uguale 37 SFPD uguale 0 quindi la SFPD sarebbe la San Francisco Police Department e in pratica Zodiac dice che lui è a 37 vittime mentre la Polizia di San Francisco è a 0 perché ancora non ha capito chi diamine sia questa persona nel 1975 cosa succede che Allen viene incriminato va in prigione ma non per i crimini di Zodiac bensì per i crimini di molestie sui minori il film di Fincher a questo punto fa un salto temporale e arriva al 1977 Zodiac ormai non si fa sentire da tre anni e quindi fa vedere come i protagonisti principali di Grey Smith Toschi ed Avery brancolano praticamente nel buio e sono ormai ossessionati dal voler capire chi caspita sia questo Zodiac perché per tanti anni è riuscito a entrare nelle loro vite e adesso vogliono capire che volto ha questa persona Grey Smith che secondo me tanto nel film quanto secondo me nella vita reale è quello che poi sarà più ossessionato da Zodiac in questo stesso periodo nel 1977 se ne esce fuori con l'idea di voler scrivere un libro e sappiamo che poi andrà a buon fine questa idea comunque fa una serie di ricerche nei vari dipartimenti quindi nel dipartimento di Napa Vallejo e San Francisco in modo tale da raccogliere quante più informazioni riguardo alle scene del crimine di Zodiac ed è proprio durante questa ricerca che qualcuno informa Grey Smith che ci potrebbe essere il nome di un nuovo sospettato e cioè quello di Rick Marshall ora Grey Smith sente il nome di Marshall per la prima volta nel 1977 ma quello che non sa è che Marshall era entrato nel milino della polizia già nel 1975 perché tanto come è successo con Allen anche nel caso di Marshall ci sono una serie di coincidenze che purtroppo vanno a fare sempre delle prove circostanziali quindi già sapete che anche Rick Marshall non sarà poi condannato per alcun crimine comunque quali sono queste circostanze? il fatto che Marshall è stato il fatto che Marshall nel 1966 quindi durante il periodo del crimine di Jerry Joe Bates si trovava a Riverside mentre quando fu ucciso Paul Stein abitava ad un posto molto vicino alla scena del crimine e anche lui possedeva una macchina da scrivere Royal la cosa più importante è che l'esame grafologico ha rilevato che la scrittura di Marshall combacia in molti punti con quella di Zodiac però nonostante tutte queste prove appunto circostanziali non c'è nessuna prova che colloca fisicamente Marshall sulle scene del crimine quindi anche in questo caso il secondo sospettato non verrà mai incriminato a questo punto Fincher fa un altro salto temporale e qui si conclude il film infatti dopo tantissime peripezie si arriva al 1991 quindi vi ricordate che uno dei sopravvissuti a Zodiac Michael Majoux era praticamente scomparso dalle scene non parlava con la stampa era quasi irrintracciabile ecco la polizia nel 91 riesce a rintracciarlo e pone davanti a lui una serie di foto dei sospettati di essere Zodiac e lui accusa cioè indica in realtà la foto dove è ritratto Arthur Lee Allen Buio finisce il film finisce in questa maniera quindi è evidente che tanto nel film di Fincher quanto poi nei libri di Chris Smith da cui è ispirato il film si sostiene fermamente la colpevolezza di Arthur Lee Allen ci tengo a fare una piccola precisazione riguardo diciamo le libertà poetiche che si è preso Fincher su un personaggio che sarebbe quello di Paul Avery infatti Fincher lo dipinge come un giornalista bravissimo del San Francisco Chronicle che però viene talmente tanto divorato da questo voler ricercare l'identità di Zodiac che assume degli atteggiamenti autodistruttivi si licenza dal Chronicle va a scrivere per un giornale molto più piccolo e in un certo senso inizia a essere disinteressato diciamo così a tutto ciò che gli accade intorno nella vita reale non è così infatti Paul Avery continua a scrivere ottimi articoli di cronaca e poi smetterà soltanto quando la sua vita verrà tolta da un enfisema polmonare il 26 agosto del 1992 Arthur Lee Allen fu trovato senza vita sul pavimento di casa sua infatti la sua vita era stata stroncata da un attacco di cuore e due giorni dopo la polizia poi fece un'altra perquisizione a casa sua però non trovò nulla di importante una parziale certezza sulla colpevolezza o meno di Allen si ha finalmente nel 2002 quando viene fatto il test del DNA tra ovviamente il DNA di Allen e il DNA che è stato rilevato sulle scene del crimine il test ha portato come risultato che i due DNA non combaciano in alcuna maniera nonostante questo però Allen non viene tolto dalla lista dei sospettati ora succede che nel 2004 due anni dopo la polizia di San Francisco dichiara inattivo il caso di Zodiac per mancanza di risorse e perché queste risorse andavano dedicate ad altri casi però nel 2007 viene riaperto il caso e l'indagine di Zodiac rimane tuttora aperta la seconda lettera inviata al San Francisco Chronicle nel 1969 quella dove Zodiac inviava un altro crittogramma verrà decifrata soltanto nel 2020 quindi dopo più di 50 anni e ne ha dato conferma all'FBI proprio il 12 dicembre 2020 ed è stata decifrata da un team di persone statunitense David Orancak il programmatore belga Jarl Van Eyck e l'australiano Sam Blake il messaggio decifrato da questi tre studiosi recita spero che vi stiate divertendo molto cercando di prendermi quello nello show televisivo che ha fatto il punto su di me non ero io e non ho paura della camera a gas perché mi manderà in paradiso prima perché ora ho abbastanza schiavi che lavorano per me dove tutti gli altri non hanno niente quando andranno in paradiso dove tutti gli altri non hanno niente quando andranno in paradiso perciò loro sono spaventati dalla morte e io non sono spaventato perché so che la mia vita sarà una vita facile in morte in paradiso che fatica questo Zodiac ragazzi passiamo a un altro sospettato che vi nomino semplicemente perché ha a che fare con un caso italiano infatti viene considerato viene nominato per un certo periodo come sospettato Giuseppe Gio bevi l'acqua un italo americano che viene a cui viene attribuito tanto l'essere Zodiac quanto l'essere il mostro di Firenze quindi come si arriva a questa affermazione c'è un'inchiesta che viene condotta dal giornalista freelance Francesco Amicone dove appunto Zodiac viene identificato come Gio bevi l'acqua Gio bevi l'acqua è conosciuto già in Italia perché fa da testimone al processo di Pacciani che sarà un altro dei principali sospettati nel caso del mostro di Firenze quindi una delle tesi per cui Amicone considera bevi l'acqua tanto Zodiac quanto il mostro è perché sostiene che nel 1974 Zodiac si è trasferito in Italia e per questo non ha più scritto lettere da inviare ai giornali di San Francisco e poi spunta fuori che bevi l'acqua tra il 1974 e il 1988 ha risieduto e lavorato al cimitero americano di Firenze che è situato praticamente nella zona sud di Firenze dove sono avvenuti la maggior parte dei crimini del mostro pare che Amicone e bevi l'acqua come vi ho già detto nel 2017 hanno fatto una serie di incontri e dopo questi incontri cosa succede che il giornalista depone alla stazione dei carabinieri di Lecco una denuncia contro bevi l'acqua perché avrebbe ammesso di essere colpevole per i crimini tanto del mostro quanto di Zodiac però di questa ammissione non c'è una registrazione quindi è una denuncia che si basa soltanto sulle parole del giornalista dopo che Amicone pubblica i primi articoli sul collegamento tra mostro e Zodiac naturalmente bevi l'acqua nega ogni addebito e querela il giornalista ci troviamo nel 2018 e infatti il 2 giugno di quello stesso anno la procura di Firenze rompe il diserbo e comunica formalmente che la denuncia di Amicone sarebbe priva di riscontri quindi si sottointende che appunto non c'è una registrazione dell'ammissione un altro dettaglio che però porta Amicone a pensare che bevi l'acqua sia anche Zodiac è che durante quei colloqui del 2017 l'italo americano bevi l'acqua ha confidato ad Amicone che tra gli anni 60 e 70 lavorava per vari distaccamenti di criminal investigation dell'esercito statunitense e gli rivela di essere stato proprio nell'area di San Francisco durante il periodo di attività di Zodiac l'indagine su bevi l'acqua che è stata aperta dalla procura di Firenze si conclude con un'archiviazione nel 2021 quindi in tempi più o meno recenti secondo il PM non ci sarebbero indizi di colpevolezza a carico dell'uomo mentre nel febbraio del 2022 viene notificata ad Amicone il giornalista la chiusura delle indagini preliminari per la presunta diffamazione di bevi l'acqua quindi bevi l'acqua muore per cause naturali all'età di 87 anni il 23 dicembre 2022 poche settimane dopo il rinvio a giudizio di Amicone però arriviamo secondo me ad un sospettato che è molto più plausibile e sto parlando di Gary Francis Post lui è rilevante perché fa capire come ancora fino ad oggi infatti la scoperta è recente del 2021 come ancora fino ad oggi il caso Zodiac attiri molta attenzione infatti nel 2021 come dicevo The Case Breakers che è un team composto da 40 persone tra ex investigatori forze dell'ordine ufficiali dell'intelligence militare e giornalisti ha affermato di aver identificato Zodiac proprio nella persona di Gary Francis Post era un ex membro dell'aeronautica statunitense deceduto ormai nel 2018 e a quanto pare si trovava nella zona di Riverside durante il periodo di attività di Zodiac però com'è che sostengono la loro tesi i Case Breakers dicono che tra le prove raccolte ci sarebbe una cicatrice che Post aveva in fronte sulla testa che era molto simile a quella presente nell'identikit di Zodiac e questo team poi trova delle prove anche nelle stesse lettere infatti nota che venivano sempre messe le lettere che componevano l'intero nome di Post come se appunto Zodiac non volesse rivelare il suo nome quindi quando diceva alla polizia decifrate questi codici così sapete il mio nome in realtà non era vero che succede poi non solo pare che Post fosse ricoverato in ospedale proprio la serie in cui Jerry Joe Bates perse la vita e l'ospedale distava soltanto 15 minuti dalla scena del delitto questa è una teoria che in molti danno come buona però non arriva nessuna conferma né dalle forze dell'ordine di San Francisco e nemmeno dall'FBI quindi rimane così lascia il tempo che trova adesso arriviamo veramente all'ultimo sospettato quello proprio fresco fresco di agosto 2024 su TikTok arriva il nome di un ennesimo probabile sospettato che però ancora non è nemmeno stato aperto un'indagine su questo quindi lascia il tempo che trova però seguitemi allora c'è questo TikToker che si chiama Jay Foy e sostiene che suo nonno sia Zodiac come arriva a questa conclusione Jay sostiene che un giorno cerca il nome di suo nonno su Google che è Richard Hoffman e trova un sacco di risultati che lo riconducono proprio al caso Zodiac in più Jay fornisce anche le foto del nonno soprattutto naturalmente quando era giovane che paiono essere molto molto somiglianti all'identikit fornito su Zodiac Jay ci dà diciamo un quadro generale di quello che era suo nonno e dice che era un agente di polizia dice anche che però non era proprio la persona migliore del mondo infatti aveva la fama infine della famiglia di Jay di essere un manipolatore di non trattare bene sua nonna e spesso di tradirla quindi proprio una personcina stando alle dichiarazioni di Jay molto carina dobbiamo dire comunque che succede che essendo un agente di polizia Richard Hoffman questo sempre tramite le dichiarazioni di Jay che è fatto tramite varissimi TikTok quindi Richard Hoffman la sera in cui sono stati hanno perso la vita Darlene e Michael Maju lui Richard Hoffman era di servizio però era stava pattugliando la zona in abiti civili e pare che Richard potesse essere quella persona che Darlene conosceva già vi ricordate ve l'ho detto all'inizio e infatti Darlene sembra che era proprio terrorizzata da questo Richard racconta sempre Jay e in un documentario Michael Maju dice che quando lui e Darlene hanno visto questa persona avvicinarsi da dietro vi ricordate aveva parcheggiato dietro di loro Zodiac e si era avvicinato verso di loro abbagliandoli con una torcia le parole che dice Darlene prima che poi succedesse quello che poi è successo sono state oh no è Richard e sta venendo per utilizzarci ora naturalmente non c'è un cognome quindi può essere qualsiasi Richard però Jay lì per lì lo riconduce a suo nonno sempre il TikToker porta un'altra somiglianza nel modo di scrivere di Zodiac e di suo nonno e fornisce diciamo una prova principale e cioè il fatto che suo nonno scrive male Antille la parola inglese Antille infatti di regola si scrive con una L finale invece suo nonno la scriveva con due L ed è lo stesso errore che fa Zodiac in alcune delle sue lettere torna anche al caso di Cherry Joe Bates infatti una cosa che non vi ho detto è che Cherry quella sera in cui poi ha perso la vita stava studiando in biblioteca e praticamente è rimasta vittima uscita dalla biblioteca ora sotto una delle scrivenie di questa biblioteca di Riverside viene trovato un poema che è stato ufficialmente ricondotto a Zodiac quindi è di Zodiac quel poema presuppongo dall'esame grafologico sono giunti a questa conclusione e però invece del solito simbolo di Zodiac ci sono delle iniziali alla fine del poema che sono RH e Jay dice che potrebbe trattarsi di Richard Hoffman suo nonno come vi ho detto tutte queste dichiarazioni che sono veramente regenti infatti se andate su TikTok se avete su TikTok potete facilmente andare a vederle non hanno ancora avuto alcun riscontro da parte della polizia quindi rimangono semplicemente le dichiarazioni di una persona su TikTok c'è anche a chiusura di questo video c'è anche un'altra notizia recente proprio del 5 settembre 2024 in cui praticamente Netflix annuncia che sta producendo una docu-serie proprio su Zodiac dal titolo This is Zodiac Speaking quindi riprende l'inizio delle lettere del serial killer questo è tutto quello che io sono riuscita a trovare su Zodiac se voi avete altre notizie scrivetemele nei commenti mi fa solo piacere e soprattutto ditemi se avete visto il film cosa ne pensate se avete letto i libri di Graysmith cosa ne pensate e soprattutto ditemi secondo voi chi è il probabile sospettato di essere Zodiac a questo punto vi invito a iscrivervi al canale a mettere mi piace a questo contenuto e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao